Parte il tiro centrale di Pugno, ha respinto il portiere bravo, la conclusione di Sergi Ramos, poi una serie di rimpalli, una bella bicicletta, c'è il gol della formazione spagnola ma è fuori gioco, fuori gioco di Sergio e di Cochi. Fuori dalla porta. Sì, dimmi allora, Tardelli. Fuori dalla porta, non ha preso la porta. Neanche in questa occasione sono riusciti a prendere la porta, una cosa incredibile perché praticamente il pallone aveva scalcato tutta la difesa del Cile, aveva attraversato tutto lo specchio della porta e alle spalle è intervenuto appunto il giocatore spagnolo proprio Cochi e ha messo fuori una clamorosa occasione. Poteva essere la possibilità per la Spagna di riaprire la partita, non ci sono riusciti neppure in questa occasione. Giovedì visita, anzi venerdì visita dall'oculista perché pensavo che l'avesse messa letteralmente dentro e quindi non mi sono capacitato di come avesse potuto commettere un simile errore. Incredibile davvero Busquets, l'errore clamoroso che ha fatto a porta praticamente spalancata, non è neanche riuscito a tirare dentro. Siamo al nono minuto del secondo tempo, la situazione Spagna 0-Cile 2.